E allora i nostri ragazzi saranno stirati in campo qui al palio dei castelli che i giochi abbiano inizio. E allora i nostri ragazzi. E allora i nostri ragazzi. E allora i nostri ragazzi. E allora. 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 qui. E allora. E allora. E allora. E allora. E allora. E lì. E allora. Grazie a tutti